la partita vediamo come si fa attivare il mutuo principale per il mutuo principale bisogna attivare quattro volte dentro quel tiro lì primo per accendere i 3 lock verdi poi 3 palline sempre dentro lì a volte può capitare che la palla non riesca fuori e non la tiene tutta l'interno normale data la natura del gioco qui si se 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 Sì. È un tiro un po' stretto, quindi è facilissimo, questo è il primo lock, adesso per fare il secondo e il terzo ce la si può passare, tenendo alzata la paletta così, devi provare a fare il secondo. Stessa cosa per il terzo passaggio. Adesso inizia il multiple, mettiamo il multiple e prendere i 6 jackpot, che sono queste luci. Circolare, 5 jackpot sull'altro. Questa è una, due, tre. Faccio mancare il 2 jackpot dalla rampa del luco destro. Il quarto, faccio la rampa destra. L'altro ha finito i jackpot, è il super jackpot che si sposterà, si sposterà ogni qualche secondo per il piano. L'obiettivo è prendere ovviamente il tiro acceso in quel momento. Quindi adesso è meglio aspettare che torni a sinistra per provare a tirarlo. Se forno indietro. Una volta preso si ricomincia sempre con i 5 jackpot. Una volta completato si può riprovare a riprenderlo, tirando sempre lì, però questa volta devo attirare 6 volte e non 4. a presto. A presto.